Prima di avviare il calcolo definisci le condizioni di vincolo dei profilati. Selezioni l'oggetto vincolo e lo applichi ad una delle estremità libere del profilato. Nelle preferenze di calcolo puoi scegliere alcune opzioni quali La normativa I parametri per le verifiche di saldature e piastre La densità della mesh nella discretizzazione del modello, ecc. Esegui il calcolo del collegamento dall'apposito menu. Puoi eseguire il calcolo per ogni singola fase, modello, sollecitazioni, verifiche. Oppure in un'unica soluzione scegliendo calcolo completo. Alla fine di ogni fase di calcolo, qualora siano presenti segnalazioni, si apre. La diagnostica interattiva Che consente di selezionare immediatamente l'oggetto della segnalazione.